Uno schema di massima, una proposta di legge che prevede la fondazione per creare il policlinico della Sicilia Centrale, Core, così si dovrebbe chiamare, con 5 punti e meno di mezza pagina, quello presentato ieri dall'assessore alla salute Ruggero Razza al tavolo tecnico sulla sanità che si è tenuto a Palermo a tutto il sapore di un contendino. Alla fondazione, che dovrebbe portare il nome dell'università, parteciperebbero come soci, fondatori, la Core, il Consorzio Universitario, l'ASPE Nissena, l'ASPE di Enna, l'ASPE di Agrigento. Nella bozza senza firma, un foglio che potrebbe avere lo stesso valore di un appunto, non si legge dove sarà la sede della fondazione e soprattutto a quale ospedale si appoggerà. Secondo comma, cita le modalità della fondazione, ovvero una fondazione di partecipazione. E' il punto 3 che fa pensare che l'idea del policlinico diffuso non sia del tutto abbandonata, infatti parla di convenzione tra fondazione e università, ovvero la scelta delle cliniche per ogni tipologia nei vari ospedali. Certo è che se da un lato si vuol dare la forma di legge per rafforzare il progetto, dall'altro la legge prevede tempi più lunghi che ormai questa assemblea regionale non ha.